... Imparerai a tue spese che la vita costa. Paghi le incomprensioni, il tempo perso, la fiducia che qualcuno ti ha tradito. Ma non portare croci sul cuore. Sbagliamo tutti. Io sono un campione di sbagli e probabilmente non sono il solo. Ma ricordati che ogni errore, prima di esserlo, è stata una scelta. Imparerai che le più grandi soddisfazioni non te le regala nessuno. Te le devi andare a prendere. E se lo vorrai veramente, ci riuscirai. Non sto dicendo che sia facile, anzi, se lo è, hai avuto una bella botta di culo. No, sto dicendo che imparerai a prenderti le tue soddisfazioni. Che prima o poi smetterai di dirti, ma è una gioia. Ricordati questo. Quando il perché è forte, il come lo si trova sempre. A tutti manca qualcuno. E tutti abbiamo il nostro modo di non darlo a vedere. Può mancare un amore lontano. Qualcuno che vorremmo abbracciare più spesso. Può mancare chi ci ha lasciato troppo presto. La mancanza è probabilmente la più forte presenza che si possa sentire. Ma imparerai a sopravviverla. A volte penseranno che sei caduta. Magari è così o magari no. Magari ti sei fatta male davvero. A volte capita, a volte capita. A volte la vita stronca, sporca. Ed è un po' stronza. Però al punto di vista possiamo deciderlo noi. Forse non sei caduta. Forse in realtà ti eri solo sdraiata a guardare le nuvole. Ci vuole coraggio a vederla così. Se sei un maschio troverai la forza. Ed è lì che inizierai a diventare uomo. Se sei una donna invece, beh, siete donne. È la forza a trovare voi.